Bene, benvenuti a tutti, vediamo cosa fare se ti fa ghosting. Cosa fare se ti fa ghosting? È interessante capire cosa fare se ti fa ghosting, cioè se una persona improvvisamente sparisce, perché spesso le malgascione, diciamo, non sanno come gestire le situazioni in cui soprattutto un uomo magari si dilegua come nebbia al sole. Talvolta dopo aver fatto sesso, talvolta anche dopo non aver fatto sesso. Oppure ci sono anche persone, questo è un dato interessante, che fanno ghosting, cioè spariscono senza neanche averti incontrata. Questo è interessante, no? Perché oggi purtroppo, o per fortuna, tanti incontri avvengono sulle chat, nelle app di incontri, sulle chat, e quindi bisogna tenere presente che in questi casi non dobbiamo mai innamorarci. Questa è la prima regola. È assolutamente sbagliato innamorarsi quando si incontra una persona sulle app di incontri. Intanto iscrivetevi pure ai canali, seguitemi, fate donazioni al canale, così, diciamo, e dando che si riceve, se ricevete qualcosa dai video, fate una donazione al canale, tranquilli, se invece non ricevete niente, ritenete che non siano interessanti, non fate donazioni ovviamente, ma se li ritenete interessanti, potete fare delle donazioni al canale. Allora, veniamo quindi al tema. È interessante capire quindi che durante tanti incontri, no? che si fanno durante le chat, nelle chat online, ci sono tante persone che in realtà, che in realtà non hanno nessuna intenzione di incontrarti, per cui spesso, e poi spariscono. Questo perché capita? Beh, sono persone che sono state anche definite, diciamo, attraverso un nome che si chiama Allumeuse o Allumeur in francese, che sono persone che, e ce ne sono tante, perché ovviamente ormai le app di incontri, di chat, diciamo, si stanno sviluppando sempre di più e accedono tutto, anche persone che lo fanno esclusivamente come passatempo, pur essendo impegnati, ma non volendo neanche tradire il partner, o perlomeno tradirlo da un punto di vista fisico, hanno però una necessità, e questo dovete tenerlo ben a mente, che è quella di farvi innamorare. Cioè, vogliono far innamorare le persone, ma senza un obiettivo, a parte quelli che poi, va bene, hanno degli obiettivi diversi, ma questi qua non hanno nessun obiettivo, se non quello di darsi un'autogratificazione egocentrica, di gratificare un po' il proprio ego, cioè di dimostrare a se stessi che sono in grado di far innamorare qualcuno. Ma poi loro sono felicemente impegnati, felicemente sposati, felicemente accoppiati, e non hanno nessuna intenzione neanche di tradire il partner fisicamente, intendo. E quindi nel momento in cui si rendono conto che l'altra persona, dall'altra parte della chat, diciamo, è coinvolta, è innamorata, spariscono. E il problema è che ci sono dei fessi, delle fesse che si innamorano veramente. Ecco, quindi, tenete una regola. Allora, se tu incontri un uomo in chat e questo, dopo due, tre, una settimana di chat, non ti chiede un incontro, non ti chiede di vederti, lascia perdere, lascia perdere assolutamente, perché si vede che non ha nessuna intenzione di coinvolgersi con te. Non ha assolutamente nessuna intenzione di coinvolgersi con te. Non gli frega niente di coinvolgersi con te, non ha veramente nessuna intenzione. E questo è un fatto, ringrazio Gioè, e questo è un fatto fondamentale, e questo dovete tenerlo presente, perché è veramente un fattore fondamentale. Quindi, se ho una persona, o si coinvolge, o si coinvolge subito, o si coinvolge subito, o non si coinvolge più. Se non ti chiede, se non ti chiede un incontro, diciamo, entro una settimana, è difficile che te lo chieda, insomma, ma puoi aspettare due settimane, tre settimane, ma poi diventa semplicemente una persona che ha semplicemente voglia di passare del tempo, ha semplicemente voglia di, come possiamo dire, divertirsi. Tutto lì, non ci sono altre possibilità. E quindi, quello che io ti consiglio, è quello di lasciare assolutamente perdere. Devi imparare a lasciare assolutamente perdere. Perché rischi di invaghirti, rischi di innamorarti. Anche se è abbastanza, come dire, inusuale che questo succeda, però, diciamo che la frequenza è abbastanza alta. Nel frattempo, iscriviti al canale, fai donazioni al canale, così dimostri che sei interessata, quindi vai a fare donazioni al canale, e andiamo avanti. Quindi, questo è fondamentale. Se tu incontri una persona via chat, deve essere a venire un incontro rapidamente. Poi, fai attenzione alle persone, se no, è probabile che sparisca. E le persone che spariscono via chat, tieni presente che ritorneranno. Perché? Perché, non essendo coinvolti, giocano, giocano. Devi imparare tu a giocare e non a farti vincolare. Devi essere importante, devi capire, diciamo, saluta Caterina, devi capire che questo è un punto fondamentale. E purtroppo, invece, ci sono tantissime persone che si innamorano anche di perfetti sconosciuti, che non conoscono neanche, col quale hanno scambiato dei messaggi. Allora, quindi, se una persona sparisce via chat, intanto sei stata tu, diciamo, come dire, non dovresti neanche farci caso, perché è assolutamente vietato coinvolgersi con persone che neanche conosci. Questo, ringrazio Caterina, questo è assolutamente vietato. Se tu lo fai, vuol dire che sei eccessivamente bisognosa, vuol dire che sei eccessivamente bloccata su quelle che sono le tue necessità, su quelle che sono le tue urgenze, su quelli che sono i tuoi bisogni fondamentali. Per cui, devi imparare a eliminare completamente queste abitudini. Quindi, quando incontri una persona, via chat, o la incontri, e te ne, e, diciamo, avviene subito e rapidamente un incontro, oppure non ci sono altre possibilità che tu possa portare avanti una relazione. E come agire? Bisogna assolutamente dare indifferenza. Se una persona sparisce via chat, tu devi fargli una X sopra e non devi saperne più assolutamente niente. Non devi assolutamente sapere più niente di questa persona. Deve completamente sparire. Deve completamente essere eliminata totalmente dalla tua vita. Ma non devi perderci più un secondo di tempo. Non ci devi perdere neanche un millesimo di secondo. Perché ogni secondo che passerai con questa persona sarà un secondo perso, sarà un secondo bruciato, sarà un secondo... Ringrazio Caterina, grazie Caterina, grazie tante. Sarà una persona che devi completamente annientare, annullare dalla tua mente. Invece purtroppo esiste chi si accaponisce. Perché ci sono persone che si invaghiscono via chat? Perché ci sono persone che si innamorano via chat? Questo nasce dal fatto che ormai viviamo in un'epoca in cui purtroppo c'è tanta solitudine. Ci sono persone, ci sono veramente tantissime persone che sono sole, ci sono veramente tantissime persone che sono... pur magari... pur magari essendo delle belle donne, essendo anche donne interessanti, tendono a vivere una solitudine estremamente marcata, estremamente forte. Per cui sono in situazioni in stato di bisogno. E chi è in stato di bisogno si coinvolge anche su persone che assolutamente non meriterebbero questo. Diverso è il discorso se una persona via chat, che tu conosci via chat, ti vuole incontrare. Anche qua bisogna fare attenzione che quando incontri una persona via chat, che è uno sconosciuto, devi renderti conto una cosa. Qua qual è l'errore che fanno molte donne quando incontrano una persona conosciuta via chat? Magari con quello quale hanno chattato due mesi, magari un mese, magari 15 giorni, che gliela danno subito. Io ho sentito diverse volte questo discorso. E vabbè, ma come facevo a non dargliela? Come faceva a non dargliela? Se, diciamo, abbiamo chattato per due o tre settimane di fila? E questo sta il problema, che una tattica dei seduttori seriali è quella di chattare contemporaneamente, perché la chat ha una capacità di essere sviluppata in modo seriale, talvolta anche con messaggi copia e incolla. Ma anche se non fanno messaggi copia e incolla, diciamo che la chat costa comunque poco farla. ci sono persone che chattano magari con 4, 5, 6, anche 10 donne contemporaneamente. E poi al giro se le vedono tutte, una alla volta, e queste le danno subito alla prima. Perché? Per quale motivo? Perché credono di essere alle uniche, credono che questo sia coinvolto, e quindi non mettono nessun vincolo. E poi, immancabilmente, questi spariscono subito dopo. Perché, ovviamente, il loro obiettivo era, il loro scopo era proprio, era proprio lo scopo, diciamo, no? Ed è una buona tattica, che io suggerisco anche a chi vuole sedurre, no? Ai maschi seduttori, soprattutto, ma anche alle donne, no? Sedurre via chat, mantenendo tante chat in parallelo, è comodo, no? Perché poi vai, come dire, prima a semini, tanto sprechi poco tempo a seminare, poi dopo quando, dopo quando, diciamo, raccogli e raccogli. Poi c'è il discorso delle videochiamate in chat. Allora, il discorso delle videochiamate è un po' ambivalente, perché, allora, il discorso è una persona conosciuta in chat, o la conosci entro due o tre settimane massimo, da una a tre settimane, oppure lascia perdere, guarda oltre. E dice, vabbè, ma abitiamo lontano. Ebbè, abitiamo lontano, che vuol dire? Poi, questo, manco quello fa le videochiamate. Le videochiamate va fatte una volta, giusto per vedere chi hai davanti, perché alle volte mettono foto farlock, eccetera. Non cadere nella tentazione di fare le videochiamate erotiche, diciamo, perché allora, come dire, poi lo farai scappare di sicuro, una volta che è soddisfatto anche in questo modo. Quindi, bisogna tenere presente queste strategie fondamentali. Negli incontri via chat ci sono queste regole. E quindi, quando incontri una persona via chat, che poi lo incontri dal vivo, devi proprio focalizzarti sul fatto che quella è la prima volta che la vedi. Perché un conto è l'immagine virtuale, l'immagine scritta, un conto è l'immagine reale. Quindi non prendere come fattore di conoscenza tutto il discorso virtuale. Ma la tua conoscenza parte dal reale, dal primo appuntamento. Quindi devi assolutamente evitare di darla subito al primo appuntamento e vedere cosa fa questa persona. Però ti suggerisco di evitare di perdere tempo, di evitare di perdere troppo tempo. Chi vedi che dopo due o tre settimane non ti chiede di uscire, non ti chiede di vederti, lascia perdere, cancellalo immediatamente perché sono solo perdite di tempo. Quindi quando una persona sparisce via chat, le motivazioni sono queste. E quando una persona non ti vuole incontrare, probabilmente è un allumeuse, un allumeur, e quindi uno di quelli che vuole semplicemente gratificare il suo ego, dimostrare a se stesso che è capace di sedurre, che è capace di far innamorare. Però poi è tranquillamente impegnato, ha tranquillamente una compagna, una moglie con la quale sta benissimo e si diverte soltanto. La chat rappresenta un passatempo, diciamo, niente di più. Quindi attenzione a non innamorarsi, ovviamente. Nel frattempo, ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai le notifiche di nuovi video. Ovviamente, seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale, su TikTok, e andiamo invece a vedere quando una persona ti gosta dal vivo, cioè quando ti gosta, fa ghosting una persona che tu avevi, che tu conosci dal vivo. Ci sono persone che spariscono anche dopo magari avere una relazione da tanto tempo, no? Ci sono persone oggi che purtroppo, per fortuna, questo bisogna sempre vedere se è una fortuna o se è una sfortuna, spariscono magari anche dopo un anno di relazione, spariscono immediatamente. Allora, quando avviene una sparizione, diciamo, immediata, un ghosting immediato, magari dopo un anno, due anni di relazione o anche sei mesi, eccetera, questo, a cosa è dovuto? Questo è dovuto semplicemente al fatto che queste persone, le persone che spariscono in realtà non erano coinvolte con te, non erano innamorate di te. L'amore non finisce, non si esaurisce così, soltanto che tu non ti sei accorto che queste persone ti tenevano, come dire, come ruota di scorta. Perché se una persona è veramente innamorata, non sparisce, ovviamente. Quindi, ti tenevano come ruota di scorta e tu non te ne sei accorto anche qua per colpa dei tuoi bisogni. Quindi, devi cercare di capire quando una persona ti mette, ti rende prioritaria o non ti rende prioritaria. Perché ci sono persone che sono molto brave a creare delle scuse, a inventare scuse di lavoro, a inventare scuse di tutti i generi per non darti la loro disponibilità. Questo devi tenerlo presente. Questo devi tenerlo presente. Quindi, se una persona ti fa ghosting, quello che devi fare è non prenderla neanche più in considerazione. Devi cancellarla, cancellarla completamente dalla tua mente. Ma soprattutto, se porti avanti una relazione da tempo, devi cercare di capire se questa persona è veramente innamorata di te o se non è innamorata di te. Per capire se è innamorata di te, devi vedere se ti offre delle soluzioni o se ti dà delle scuse. Perché una persona innamorata di te in una relazione normale è una persona che ti mette tra i primi posti, diciamo, tra i primi posti nella tua vita come priorità. quindi questo cosa vuol dire che ti dedica le sue energie e il suo tempo. Chi ti dedica energia e tempo significa che è coinvolto con te comunque. Perché tieni presente questo, il tempo è il bene più prezioso che noi abbiamo. Quindi doniamo il nostro tempo solo alle persone alle quali teniamo veramente. Il tempo direi che è la cosa il tempo e anche le energie. Questo è fondamentale. Se una persona si trova con qualcuno che inventa delle scuse dicendo no, guarda che lavoro, no, guarda che ho questo, no, guarda che ho quello e ce n'ha sempre una è perché non è interessato a te. se noi siamo interessati a una persona, se noi siamo coinvolti con una persona troviamo comunque il tempo, piuttosto facciamo i salti mortali, piuttosto non dormiamo di notte. Se uno è innamorato, veramente innamorato, per te è disposto a fare, come dire, prendere la macchina e farsi anche un'ora di macchina. Se non è innamorato, se non è coinvolto, non fa neanche, come dire, cinque metri, no, perché dice che è pericoloso insomma fare cinque metri per... Quindi questo deve essere qualcosa di fondamentale. Se una persona ti dedica tante energie è quasi impossibile, ci metto il quasi perché non voglio ricordarmi, cioè non voglio dire impossibile perché poi magari qualche caso ci può essere, ma se una persona ti dedica energie, ti dedica il suo tempo, ti dedica le attenzioni, è quasi impossibile che sparissi risca di colpo, è quasi impossibile e anzi se ci saranno dei problemi cercherà di risolverli, se ci saranno dei problemi cercherà in qualche modo di superarli. Quindi devi prendere atto di queste cose. Se una persona invece non ti dà, non ti dedica il suo tempo, ti dedica le briciole del suo tempo, aspettati che questa persona possa sparire da un momento all'alto, anzi sicuramente sparirà perché tu sarai semplicemente una ruota di scorta, soprattutto se ti invita al giovedì sera al parcheggio del cimitero e questo è un altro punto da tenere in considerazione perché poi ci sono delle donne che scambiano per attenzioni dedicate, ringrazio Mariana, scambiano per attenzioni dedicate il fatto di essere come dire invitate al giovedì sera al parcheggio del cimitero. Quelle non sono attenzioni, non è che quello ti considera come una persona importante, ti considera semplicemente come una valvola di sfogo, una valvola dove come dire svuotarsi fondamentalmente e sono le persone che invece interpretano la cosa in modo completamente diverso. Quindi cerca assolutamente cerca assolutamente di capire la persona che è davanti. Ci sono anche dei segnali che tu puoi cogliere se una persona mente. Se ad esempio una persona ti dice mi fa tanto piacere vederti ah sì prima o poi ci vedremo ad esempio tutto il toccamento del naso mentre uno parla significa che comunque questa persona ti sta mentendo ti sta raccontando del balle non è interessato a vederti e tu puoi fare una domanda ma la settimana prossima ci sei? Sì sì dai ti chiamo ti chiamo appena posso ti chiamo questo non ti chiamerà mai non ti prenderà neanche in considerazione ma tu devi oppure magari ti dirà sì sì ti chiamo io non ti preoccupare e mentre lo dice si sposta indietro anche qua significa che assolutamente non ti chiamerà che assolutamente non è coinvolto con te quindi quando noti questa tipologia di segnali diciamo di natura non verbale tieni presente che anche questa persona è probabile che sparirà a breve per cui il suggerimento che ti do quando noti tu questi segnali che ti sto dicendo o comportamenti in cui non ti mette al primo posto devi sparire tu devi cercare di sparire per prima prima che sparisca lui questo paradossalmente è l'unico motivo di coinvolgerlo cioè è l'unico modo per coinvolgerlo cioè se tu ti rendi conto che una persona ti dà le briciole ti dà anche dei segnali di rifiuto quando tu gli parli di inviti eccetera devi sparire tu perché se sparisci vai a interrompere gli schemi poi magari non tornerà più ma a quel punto lì non te ne deve fregare niente perché intanto come dire ci sono persone che è meglio perdere che trovarle ma se tornerà tu potrai mettere dei vincoli e potrebbe ribaltarsi la situazione ma non devi accanirti grazie Caterina ma non devi accanirti sul fatto che non devi accanirti sul fatto che ti interessa diciamo capire di più di questa persona voglio capire come mai no se una persona non ti dà quello che tu vuoi non c'è da capire niente non c'è da approfondire niente intanto ti racconterà soltanto delle scuse quindi cerca di capirlo prima e lasciarlo tu gostarlo tu questa è una soluzione e nel frattempo ovviamente iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei miei video e seguimi ovviamente su Instagram Massimo Tramasco ufficiale su tutti i miei canali YouTube e adesso voglio parlare dell'ultima sparizione diciamo che è quella di quando sparisce un uomo di cui tu sei l'amante perché ci sono anche molte donne che si lamentano di questo ah il mio amante è sparito mi ha bloccata bla 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 allora intanto devi tenere presente questo che quando tu hai un amante devi viverti questa relazione con quest'amante esclusivamente come una relazione trasgressiva cioè è vietato assolutamente per il benessere personale innamorarsi degli amanti perché innamorarsi degli amanti vuol dire come dire il modo più semplice per soffrire è il modo più semplice per stare male quindi è veramente vietato innamorarsi degli amanti e devi tenere presente che se un amante sparisce rapidamente è perché probabilmente o tu l'hai stressato troppo dicendogli eh ma quando lasci tua moglie ma perché non lasci tua moglie tra l'altro più antagonizzi con la moglie più lo mandi più lo leghi alla moglie sappi anche questo più una persona antagonizza con la moglie più lo lega ma un amante sparisce semplicemente un amante che sparisce dovrebbe farti capire che tiene la moglie più di te e che sparisce perché tu avrai messo avrai rotti i coglioni tra virgolette e avrai cercato di e avrai cercato di eh ottenere eh come dire che il fatto che lui lasci la moglie cosa che non avverrà avviene avviene molto raramente eh ora nulla contro le relazioni con persone impegnate con persone sposate non è una questione morale ma è semplicemente una questione pratica se tu vuoi avere un amante devi farlo solo per una tua trasgressione edonistica senza nessun coinvolgimento diciamo che a fare questo sono più bravi gli uomini no perché negli uomini rispetto alle donne è un po' più sci per quello eh magari no e non è che eh come dire si innamorano delle escort con la quale eh con la quale vanno a letto eh quindi questo è è un qualcosa di di molto importante quindi mai innamorarsi dell'amante se una persona si innamora dell'amante è un po' del gatto perché o anche lui è impegnato e quindi allora va bene ti innamori ma comunque compensi con la famiglia ma se tu sei una persona single supponiamo una donna single ma potrebbe essere anche viceversa che si innamora di un uomo sposato eh beh e inizia a rompere i maroni è evidente che questo sparirà quindi se un amante sparisce quando percepisce che c'è un pericolo nella relazione oppure sparisce quando eh diciamo tu sei diventata troppo noiosa non gli dai più adrenalina perché un uomo sposato diciamo perché un uomo sposato secondo te ha una relazione con un amante non è neanche tanto la questione sessuale perché di fatto un uomo insomma basta che ha 50 euro in tasca e la questione sessuale è finita no cioè non è questo il problema ma il discorso è legato soprattutto all'adrenalina al come dire all'emotività che ti produce avere un amante proprio per il fatto che è un amante trasgressivo quindi il fatto la paura di essere scoperti dalla molla insomma tutta una serie di cose che oltre all'aspetto prettamente come possiamo dire edonistico ti dà comunque un'adrenalina no soprattutto il fatto di essere scoperti la paura di essere scoperti è un afrodisiaco naturale praticamente no ti dà forza ti dà adrenalina e quindi teniamo presente questo che una persona sceglie un amante solo per adrenalina e basta perché poi è molto innamorato della moglie il fatto che la tradisca non significa niente e diceva beh ma se fosse soddisfatto della moglie non la tradirebbe ma non si tratta di soddisfazione si tratta che essendo moglie come dire non ti può dare quell'adrenalina che ti dà un amante semplicemente per il fatto che il rapporto con l'amante è un rapporto trasgressivo il rapporto con la moglie è istituzionale tra l'altro non è neanche una questione di bellezza perché ci sono molti uomini che magari sono sposati con belle donne e che frequentano delle amanti molto più cesse della moglie ad esempio ma è ovviamente l'amante al vantaggio che ti può dare l'adrenalina ma questo non ti fa però innamorare anzi un amante sparisce cioè il marito che è amante insomma sparisce quando tu le hai rotti maroni e quando lo contrapponi alla moglie quindi nel momento in cui contrapponi il tuo amante a sua moglie cioè o me o tua moglie lui sceglierà sua moglie naturalmente anche è sbagliatissima la scelta proprio a livello strategico di andare a parlare con la moglie perché ci sono delle amanti che ah sì mi lasci e io spiattello tutta tua moglie io racconto tutta tua moglie quindi usando una tecnica manipolativa nella speranza che questo non le lasci per dire e loro vanno a raccontare tutta la moglie ma nel 90% ottengono semplicemente l'effetto contrario ottengono semplicemente ottengono semplicemente il fatto che che si coinvolgerà ancora di più con la moglie perché quando questa va a raccontare ringrazio Tottino questa va a raccontare tutto alla moglie che succede succede che la moglie mica lascia il marito sono pochissimi i casi di abbandono per o di fine del matrimonio per tradimento la maggior parte dei matrimoni che finiscono è per motivi economici mai per motivi diciamo legati alla questione di corna le corna si aggiustano sempre e infatti la moglie gli metterà i bastoni tra le ruote la moglie gli dirà ah sì allora non uscirai più qua gli metterà i bastoni tra le ruote gli metterà il guinzaglio più corto e così lui si troverà ancora più legato alla moglie pensa a te tu che vai a spetelare tutta la moglie sperando che questa persona che la moglie lo lasci invece la moglie se lo prenderà e lo terrà ancora più legato a sé e quindi anche qua se non vuoi far sparire un amante devi viverti veramente la relazione come trasgressiva devi entrare in quest'ottica puramente pura trasgressione allora vedrai che in questi modi sarà difficile che sparisci e se poi sparisci comunque te lo togli dai maroni e te ne trovi un altro se però l'ultima cosa importante tu volessi avere creato una tua famiglia allora tieni presente che ogni giorno passato con un amante sposato è un giorno perso perché anche il tempo è anche il bene più prezioso tuo come il bene più prezioso di quello che ti dà il suo tempo per coinvolgerti ma il tempo è anche un bene prezioso tuo perché se tu perdi tempo poi quel tempo lì non te lo regala più nessuno magari arrivi a 40 anni 45 anni perdi la possibilità di fare figli ad esempio perdi magari la possibilità di conoscere persone ovviamente più giovani si è più è facile comunque conoscere persone quindi tieni presente questo definisci in primis gli obiettivi se invece non hai l'obiettivo di accasarti non hai l'obiettivo di avere figli vuoi semplicemente non vuoi relazioni ma vuoi semplicemente un po' di adrenalina allora va benissimo tutto non esiste una cosa buona una cosa cattiva esistono solo cose funzionali nei nostri obiettivi oppure cose non funzionali quindi seguimi su Instagram Massimo Toramasko ufficiale su TikTok e su tutti i miei canali YouTube per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo quindi un saluto a tutti ringraziamento a Caterina Caterina